Il termine Pasqua deriva dall'ebraico Pesach, che significa passare oltre, in riferimento alla festa che celebrava il ricordo del passaggio di Israele attraverso il Mar Rosso, dalla schiavitù d'Egitto alla libertà. Etimologicamente la Pasqua è dunque un passaggio, una ricorrenza festeggiata secondo un calendario variabile che dipende dal plenilunio di primavera. Per i cristiani rappresenta appunto il passaggio della morte alla risurrezione di Gesù Cristo, ma come spesso avviene in una sovrapposizione tra sacro e profano, la Pasqua è anche un passaggio simbolico alla rinascita della natura, che con la primavera torna a vivere dopo il letargo invernale. Una festa carica di simboli e tradizioni dunque, come spiega al Tg8 la demo-antropologa Adriana Gandolfi, esperta di discipline storiche che studiano l'essere umano dal punto di vista sociale e culturale. Perché si regala l'uovo a Pasqua? Perché Pasqua è il simbolo della rigenerazione, l'equinozio di primavera che riprende, è il primo plenilunio dopo l'equinozio e quindi il ciclo della vita che riprende dalla rinascita. Non a caso Gesù viene fatto rinascere dopo la sua passione morte nel periodo che conosciamo come primavera, quindi la Pasqua, che è appunto la festa della rigenerazione, come dicevo prima, e quindi l'uovo che è simbolo di fecondità e fertilità e una propiziazione di una futura fertilità e prosperità. Parlando proprio di bambini, a Pasqua si regalano dolci che hanno la tradizionale forma di pupe e cavalli. Perché? La pupa è femminile, il cavallo è per i maschi. Entrambi devono avere l'uovo nella pancia perché sono il simbolo appunto della rigenerazione futura, della rinascita. E quindi le femminucce ricevono il simbolo della femminuccia, i maschi, il cavallo, perché il cavallo, il maschio una volta era un uomo pubblico, il lavoro, era quello che usciva, rientrava e portava le risorse per la famiglia. La donna era quella che le ottimizzava e che faceva in modo di garantire una continuità alla stirpe. Nel libro Festa e Fiera, scritto da Adriana Gandolfi e illustrato da Michela Di Lanzo per Radice Edizione, anche i riti di Pasqua trovano spazio in una sorta di calendario narrato, illustrato, che tiene conto di tradizioni millenarie e simbologie che si tramandano di generazione in generazione. Com'è cambiata la Pasqua? Ma non credo che sia cambiata più di tanto. Natale è stato più contaminato dal consumismo sfrenato. Pasqua non è una festa consumistica. Pasqua è una festa dove ieri come oggi si continuano a festeggiare le Pasquette, dove si va con il dolce, la pupa, il cavallo, fuori città, fuori paese, a consumare gli arrosticini, il cibo alla brace con gli amici. È una festa di celebrazione, di un rinizio. E poi appunto le uova di Pasqua comunque mantengono. Poi ci sono delle feste meravigliose come i Venerdì Santo, come Chieti, Penne, Lanciano, L'Aquila, Loretta Prutino. Cioè ci sono delle feste del Venerdì Santo incredibili, sul Mona, dove c'è questo patos della passione e della morte di Cristo, che poi si conclamano nella rinascita di Cristo con la Domenica di Pasqua. Le generazioni di ieri come quelle di oggi si lasciano prendere dall'emozione. Pasqua è una festa molto meno consumistica rispetto a Natale, proprio perché conserva i suoi simboli rituali in maniera più forte.